Le persone che mi conoscono, che non mi conoscono, sono stati tutti vicini a me e ai miei figli soprattutto, e ai figli di Antonella. E ringrazio anche voi che siete stati anche discreti nelle vostre interviste e tutto. E scusatemi se non mi sono fatta intervistare, ma anche il dolore è veramente grande. Grazie a tutti. Inauguriamo tante cose importanti. Grazie a tutte le persone che ci stanno vicino, ancora adesso. Grazie davvero.